Dieci anni fa è nata questa iniziativa che voleva da parte mia riportare la mia esperienza, come io avevo incontrato lo sport, come lo sport aveva impattato nella mia vita, ai giovani di oggi. Di lì l'insieme delle didattiche, di amici, ognuno specialista nel suo settore, ha creato questo format. Questo format che aveva l'opportunità di agire sulla performance sportiva dei ragazzi attraverso la crescita individuale di ognuno di loro. Come? Proponendo loro, dando loro opportunità di riflettere, di incontrarsi, di confrontarsi, prima con se stessi e poi anche con gli altri. Accorgersi di chi c'era attorno, di chi c'era attorno a loro e cominciare ad avere delle relazioni. e imparare ad avere delle relazioni che potevano essere utili un domani o imparare comunque a crearle nel momento in cui ne avessero avuto bisogno. Alla base di questo campus, attraverso questa esperienza, nasce il programma educativo Mauro Bregamasco, che ha come obiettivo quello di facilitare la crescita personale di ragazzi attraverso lo sport. Quindi lo sport è conosciuto e ritrovato come mezzo, mezzo educativo, mezzo integrativo, mezzo di confronto e non più il fine sportivo, cioè avere delle macchine da risultato, ma ragazzi che crescono. Quindi stare attenti a quelle che sono le loro esigenze, a come si relazionano e fare delle loro esigenze le nostre esigenze. Grazie.